Nulla di fatto ancora. Nel consiglio straordinario della Camera di Commercio Erpiniasannio permane il muro contro muro. Bruno non vuol saperne di dimettersi, neanche se mi sparano, ha detto, e possibilità di andare avanti senza numeri non se ne intravedono. Il problema è sempre quello, gli accordi venuti meno di cui Pesce, leader della CNA di Avellino, ha chiesto conto sia in consiglio che ai microfoni di 8 Channel. Questi accordi fatti prima della sua elezione, ieri l'abbiamo incalzato per capire se sono vere le notizie che stanno uscendo sui giornali. Ormai stanno palesando apertamente che sotto banco c'erano degli accordi fatti sia per la presidenza di Valisannio sia per il ticket due anni e mezzo, due anni e mezzo tra lui e Oreste La Stella. Abbiamo chiesto, senza avere risposta, tutte queste cose. E sugli accordi Pesce ha incalzato in consiglio chiedendo dei patti di alternanza al vertice della Valisannio, della vice presidenza, di posti in giunta garantiti pur senza averne poteri, della ventilata ipotesi di liquidazione della Valisannio. Ma al netto di tutto, la situazione sarebbe solo una, le dimissioni. Pino Bruno sto utilizzando una terminologia che secondo me è sconfortante. Dichiarare pubblicamente, non me ne vado neanche se mi sparano, non cedo a ricatti, confessino quello che devono confessare. Ce lo deve dire lui che cosa devono confessare, di quale ricatti parla. Oggi quell'istituzione gli sta chiedendo rimetti il mandato, poi ti ricantiti e vediamo se ci sono i presupposti per andare avanti.